Antonio siamo in diretta beh innanzitutto facciamo vedere l'Etna che fuma eccolo non siamo non siamo in una casa qui siamo mi hai portato a vedere un io l'ho definito un padiglione no ovvio che i riferimenti a Miss ma anche l'architettura moderna che sono dei piloti ha utilizzato dei tagli molto particolari si vede il mare siamo ad Acireale racconta questo progetto intanto ci muoviamo e tu mi segui questo è un progetto panoramico direi direi no dove a 360 gradi guardo gli elementi che ti offre la costa ionica l'Etna il mare Taormina si vede anche la Calabria lì in fondo eccola lì eccola lì e quindi ripeto è una casa un po' strana c'è anche un mitico selfie ecco siamo noi in realtà siamo qui mi hai invitato per un'altra cosa ma che non possiamo ancora svelare però mi hai portato come spesso accade quando siamo qui a Catania a vedere un cantiere ti ringrazio di averlo fatto abbiamo deciso di fare subito una diretta facebook perché la luce è pazzesca raccontiamo questo progetto questo progetto è fatto da tre elementi tre elementi giocando sempre con la geometria così come faccio in tutti i miei progetti e trasferendo i tre elementi anche da un punto di vista diciamo di completamento dell'opera con i materiali quindi io ho tre elementi in geometria e tre elementi in forma determinata dai materiali materiali che sono praticamente il travertino navona il travertino turco e poi il legno di cedro che stiamo utilizzando moltissimo per l'esterno anche per l'interno che hai usato in questo caso ma anche come contro soffitto sotto no? si si c'è anche un brisolè intestata che lo mette in evidenza stanno arrivando stanno arrivando commenti like questa che vediamo che cos'è la zona notte? questo no no questa è una zona ufficio una zona ufficio personale qualcosa di suo e niente e cerchiamo intanto scendiamo andiamo a vedere scopriamo il cantiere io mi sono io mi sono stupito perché ti ho fatto la classica domanda quando la consegna e tu mi hai detto ma tra un mese in realtà è tutto pronto però per un non architetto come me è sempre incredibile pensare a tempi così stretti no 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 ormai è in fase di completamento in tutto ecco qui vediamo la scala che sale appunto a questo fantastico terrazzo sul mare siamo 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 in diretta io non sono un operatore si capisce però intanto andiamo a vedere questo questo progetto perché è davvero fantastico è una ecco guarda arrivano fioccano fioccano i like quindi evidentemente ci sono è qui scusa fermate un attimo abbiamo il cavo del microfono qui poi ci sarà una parte sì questa sarà tutta una parte sarà completata con del verde che emerge da giù perché c'è anche una zona semi pugea vai vai continua a parlare intanto che ti sentono ci sentono in questa questa zona molto l'impatto la vista la vista ecco l'unico il piloti eccolo qua la firma perché la cosa importante che aggetto c'è qui c'è qui c'è la piscina infatti andiamo a vederla poi sveglieremo anche gli ingressi la scala che sale anche dall'interno piano superiore ragazzi la piscina godetevela ecco Aspior sempre diciamo che Antonio sulle piscine ti stai dando molto da fare hai anche non dico dei brevetti hai delle soluzioni particolari ogni piscina ha la sua storia la sua storia legata al luogo legata alla tipologia costruttiva anche della casa per cui cerchiamo sempre di dare anche alla piscina un contenuto che visto che lavori in orizzontale beh in questo caso la vediamo andiamo andiamo a vederla proprio dal bordo sì sì qui l'abbiamo fatta emergere grazie a questa pedana e poi c'è un mini spiaggetta con questa scivola che ti porta dentro poi la piscina fatta con la stessa l'antica pietra con questa navona dell'esterno che farà in modo che l'acqua si può vedere quel po' d'acqua che già è immersa la luce è molto importante anche in questo caso perché la luce diventa un elemento di progetto no anche per la piscina sì 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 ecco la piscina la piscina non è illuminata che diventa in maniera compatta significa in maniera compatta senza fasci luminosi ma con un elemento luminoso totale a immersione per cui diventa anch'esso una lampada nel momento in cui viene viene accesa interno esterno nei tuoi progetti molto presente ricordiamo siamo in cantiere quindi ci sono degli sporchi compreso i vetri però questo serramento ad angolo totalmente libero è un dettaglio molto molto importante raccontiamola perché questa scelta è evidente ma perché siamo in un contesto chiaramente di clima che non consentiva e quindi perché non far vivere una casa in maniera integrale fra l'interno e l'esterno anche se è coperto dalla propria parte in maniera tale da dare con la continuità che è un po' la logica in quasi tutti i miei progetti a maggior ragione questo lo faccio in sicilia voglio dire ai nostri telenauti che io sono un po' imbranato vedo molti commenti ma non li leggo perché dovrei mettere gli occhiali in più mi dice aggiungi alla diretta non sono capaci di farlo non è che non voglia farlo per cui grazie per la pazienza antonio fammi vedere il movimento di questo serramento quindi totalmente si chiude per un diciamo 5 6 metri da un lato e dall'altro 6 metri di apertura totale l'architetto che fatica eccolo qua il demiurio e si apre anche dall'altra parte fino al pilotino fino in fondo ancora non sono registrati abbiamo capito abbiamo capito il movimento diventa uno spazio unico proviamo proviamo a tornare proviamo a tornare giusto per far percepire la profondità vieni antonio con me per cortesia no ma lascialo lascialo così un attimo vediamo guarda così si percepisce la profondità del cantiere poi adesso tra poco entriamo anche se ripeto non è ancora terminato la zona notte immagino sia l'altro lato andiamo tanto ci giriamo così vediamo se siamo incontroluce così vediamo che siamo realmente potremmo mettere la luce ma non sono capace quindi questa è una scala che è la prova dell'architetto ecco vedi che si accende la luce la prova dell'architetto come diciamo sempre è tutta su disegno come sempre nei tuoi progetti e la vediamo ecco prima parlavamo del legno ti ho citato Alvaro Annalto di lavamento luce scuretti è una sagra ecco infatti sì è la parte sopra che avevamo visto prima qui entriamo in una zona un po' più buia non so se si accenderanno le luci però si accenderanno passando intanto siamo in cantiere ripeto no ripetiamo siamo in cantiere possiamo dare qualche cifra la casa è molto vasta quindi una si ha delle superfici importantissime importanti chiaramente li limitiamo in questo momento fino a non la completeremo quindi ed è una suddivisione razionale zona giorno e zona notte che a sua volta è una zona giorno qui c'è la cucina in embrione giusto? sì c'è la cucina in embrione questa è la cucina che verrà poi a sua volta separata dagli elementi scorrevoli quindi avrà anch'essa una possibilità di chiudersi è la zona notte che c'è la zona notte ricordiamo siamo in cantiere una visita grazie ad Antonio che ci dà questa possibilità io sono molto curioso devo dire soprattutto di vedere ci sono le stanze dove io non li vado a definire al momento ma sono i mobili che definiranno gli spazi gli spazi certo sono dei setti ecco prima ho detto arrivando a proposito citavo il padiglione di Miss ovviamente ma andiamo in una zona un po' più chiara perché se no non riusciamo a vedere ci siamo anche questa è la stanza parola più che stanza sembra un padiglione ecco quello che stavo dicendo è che entrando in questa dimora ho avuto l'impressione di entrare in una casa casa museo ma non tanto perché alla john shawna resti tanti quadri ma perché fondamentalmente come spazi come setti come lavoro che hai fatto a dimensioni di museo di luogo quasi quasi pubblico più che privato sì 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 ma è l'idea che ti dà lo spazio ma in realtà è poi molto circoscritto anche anche questi grandi spazi si leggono ma in realtà sono anche limitati perché nello spazio generale perché lavora su più su più livelli in realtà gli arredi poi definiranno le isole definiranno tutto le separazioni le quinte tutto devo dire che anche le superfici che sono fatte con elementi molto chiari da questa lavona da questa matericità del colore interno esterno uguale assolutamente uguale non c'è una differenziazione proprio nella scelta sarà curioso non so quanto piova qui ad acireale però sarà curioso vedere quando il marmo si bagna non all'acqua è bellissimo già c'è già una differenza abbiamo fatto anche delle prove è bello anche muoversi qua devo dire la prima volta lo faccio da fermo da fermo nel senso ho visto la cantiere per cui vieni vai in cantiere lavori non ti accorgi un po' di quello che sono invece le stiamo un po' più alla luce così salutiamo tutti Antonio grazie veramente questa è una visita pazzesca e spero di tornare presto con delle telecamere professionali quando sarà redata e tutto la facciamo vedere bene grazie grazie a voi siete in tanti e un bacio a tutti grazie grazie a voi grazie a voi